Dal 13 aprile al 4 giugno vi aspettiamo con la Fondazione Mazzoleni nel magnifico scenario del castello Visconteo di Pagazzano in provincia di Bergamo per una grande mostra d'arte. Saranno esposte le 100 opere di Salvador Dalì che raffigurano i tre gironi danteschi, quindi la Divina Commedia. Vi aspettiamo perché è un modo diverso per trascorrere un sabato pomeriggio o una domenica in uno dei posti più belli della nostra provincia bergamasca. Grazie.